Ha toccato quest'anno l'Ateneo Trentino, il progetto nazionale voluto dal Ministero dell'Agricoltura, Vino e Giovani, che punta ad insegnare ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni una cultura del bere responsabile. Poco successo, per la verità, per il convegno, maggiore partecipazione alle degustazioni del pomeriggio. Cristiana Chiarani. Capire le connessioni tra vino e cultura, le implicazioni psicosociologiche dell'uso ed abuso del nettare di bacco. È una campagna culturale, quella voluta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Vino e Giovani, che quest'anno ha fatto tappa all'Ateneo Trentino. Appuntamento principale dal punto di vista didattico, la presentazione di una ricerca sui valori legati al consumo enologico curata da Luca Acquarelli, Omar Calabrese e Carlo Cannella. Il vino stesso non è un attore secondario marginale, è il protagonista della creazione di alcune comunità. Intorno al vino si crea comunità, perché il vino porta cultura. Porta cultura come può portare un oggetto d'arte o un edificio, insomma un oggetto su cui si stratifica una cultura. Tra i relatori anche il sociologo Charlie Barnao, a sua volta autore di studi sulle dinamiche del bere in Trentino e in Calabria. La cultura del bere, intesa come integrazione di elementi culturali diversi. In Italia si stanno incrociando due culture diverse del bere. Quella asciutta, proveniente dai paesi anglosassoni, dal nord Europa, cioè del bere per bere, fuori dai pasti. Con la cultura invece nostra, quella legata alle nostre tradizioni, che è la cosiddetta cultura bagnata legata al vino, del bere ai pasti. Ecco, dall'incrocio di queste culture vengono fuori nuovi modelli culturali, per esempio l'aperitivo Happy Hour, che sono dei modelli misti e che si stanno diffondendo in tutto il resto d'Italia. Bere insomma all'università è una cosa seria. Peccato che fossero pochissimi gli studenti in aula, molti di più quelli che nel pomeriggio hanno preso parte alle degustazioni guidate da sommelier. Come dire, per imparare meglio la pratica che la teoria.